ciao ragazze parliamo del nostro burro corpo confezione la confezione sarà in cartoncino personalizzabile con il vostro logo le parti laterali dell'astuccio saranno personalizzate con la texture con l'immagine che più vi piace il prodotto è confezionato all'interno di un vasetto trasparente con finitura argento dorata nera o bianca etichetta plastificata personalizzabile con il vostro logo texture o immagine che preferite di più il burro è un prodotto indicato per chi ha la pelle secca disidratata quindi che ha proprio bisogno di nutrimento adesso con l'arrivo della stagione fredda è un prodotto fantastico per la pelle all'interno troviamo burro di karité olio di jojoba e olio di argan è un burro che non si presenta con una consistenza troppo densa che quindi lascia la pelle untuosa lascia quella sorta di patina anzi ha una texture molto morbida e vellutata che una volta applicata sulla pelle è facilissimo da massaggiare ed è una coccola fantastica oltre che essere molto profumata quindi è un regalo veramente indicato per chi ha piacere di prendersi cura della propria pelle dopo aver fatto la doccia o un bel bagno caldo le profumazioni potete scegliere tra sei profumazioni differenti abbiamo quella ambra che è una fragranza resinosa balsamica l'orientale che invece ricorda quel profumo che sentite all'interno delle migliori spa orientali quindi incensi legni che bruciano latte vaniglia una fragranza decisamente più dolce che ti riporta una coccola un abbraccio sul divano davanti al caminetto mandarino e tè verde al contrario una fragranza molto più energica più fresca più aggrumata poi abbiamo lavanda e bergamotto più fiorita dolce dove si sente molto la lavanda le note di lavanda per ultima fiori di cotone e legno di cedro unisex perché indicata sia per l'uomo che per la donna è una fragranza molto fresca che sa di pulito ed è questa che mi sono applicata sulla mano e è veramente molto molto buona quindi se le vostre clienti vogliono fare un pensiero profumato e coccoloso ed è indicato magari appunto ad una persona che ha la pelle con bisogno di molto nutrimento questo è un regalo decisamente indicato e azzeccato scrivetemi pure a elisa.cosmetico facile chiocciolagmail.com e risponderò alle vostre domande sui prodotti o sul loro utilizzo invece per informazioni sui vostri ordini o sulle offerte rivolgetevi ai nostri beauty coach grazie a tutti